Buongiorno, sono il dottor Alessandro Staffelli. Spesso e volentieri mi occupo nei sociali come del resto mio fratello Valeria, ma oggi sono qua per farmi portavoce di un messaggio molto importante in tema di sicurezza stradale. Volevo dire a tutti coloro che utilizzano molto i motorini di utilizzare il casco, allacciarlo molto bene, usare protezioni ma soprattutto rispettare i limiti di velocità. Vi prego di prestare molta attenzione al video che seguirà dopo la mia introduzione, perché è un fatto veramente molto rappresentativo. Vi saluto e a presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.